Buonasera a tutti. Scusate il ritardo, ma come sapete rientro adesso da Milano, dove abbiamo accompagnato con il Ministro Boccia il nuovo contingente dei medici che sono andati nelle regioni che hanno bisogno di un supporto per il personale sanitario. Partiamo dai dati. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 96.877, con un incremento di 1.615 pazienti in più rispetto a ieri. Di questi 3.605 sono in terapia intensiva. Va segnalato ancora la diminuzione del numero dei pazienti in terapia intensiva e in reparti di cura e di ricovero. Il numero dei pazienti in terapia intensiva diminuisce oggi rispetto a ieri di 88 unità. 28.399 sono i ricoverati con sintomi. Anche qui abbiamo un valore negativo rispetto a ieri. Diminuiscono di 86 rispetto a ieri il numero dei pazienti ricoverati con sintomi. La maggior parte dei pazienti affetti da coronavirus sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e il totale dei pazienti in isolamento sono 64.877, il 67% del totale. Oggi ad evidenziarci ancora una volta il calo di pressione nelle strutture ospedaliere è proprio questo dato che nel solo mese di aprile è cresciuto di 8 punti percentuali. Quindi che cosa succede? Che cresce il numero delle persone in isolamento domiciliare e diminuiscono il numero delle persone che sono ricoverate in terapia intensiva o in reparti ordinari. Oggi registriamo purtroppo 610 nuovi deceduti, mentre il totale dei guariti sale a 28.470, 1.979 in più rispetto a ieri. Le nuove persone contagiate rispetto a ieri sono 4.204 che portano a 143.626 casi totali, comprensivi quindi delle persone attualmente positive, di quelle decedute e delle persone guarite. Per quello che riguarda le somme raccolte dal Dipartimento della Protezione Civile sul conto corrente delle donazioni voglio segnalare che il valore di questo conto corrente ha superato i 116.077.809 euro, fondi che sono stati raccolti per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale e per ventilatori. Voglio ricordare come la solidarietà mostrata ancora una volta dai nostri italiani si è trasformata immediatamente in azioni concrete nell'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e dei ventilatori. Infatti a oggi abbiamo utilizzato quasi 25 milioni di euro di queste somme raccolte a disposizione del Dipartimento. Altro dato che voglio ricordare, restando ferme, il numero delle tende di pre-triage nelle strutture ospedaliere e nei penitenziari è il numero cospicuo dei volontari e delle volontarie impiegate nella gestione dell'emergenza. Sono 17.018 e si affiancano i nostri volontari al personale delle strutture operative, delle forze armate, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, delle strutture sanitarie, il personale sanitario che ancora una volta voglio ringraziare perché è quello che è più impegnato in prima linea. Quindi ringrazio tutti quanti ma in modo particolare il personale sanitario. A proposito del personale sanitario, vi dicevo che oggi siamo stati in Lombardia, è partito il terzo contingente della task force dei medici. Sono partiti 86 medici che sono stati distribuiti tra le regioni maggiormente impegnate, quindi Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Marche, Trento e Valle d'Aosta. Il numero totale dei medici che sono impegnati sul territorio a supporto dei sanitari del territorio, comprensivi anche dei team internazionali presenti nel nostro Paese, e di 345 unità. Voglio ricordare anche che il 10 di aprile partirà un ulteriore contingente di personale infermieristico e il 3 di aprile erano partiti 91 infermieri. Quindi voglio qui veramente ricordare la generosità e la grande solidarietà che ancora una volta oggi si è dimostrata incontrando i medici che sono partiti e che fanno del nostro Paese un Paese straordinario, dove in occasioni come quella che stiamo vivendo la generosità dei nostri connazionali è veramente notevole. Io mi fermerei qui, darei la parola al Professore Locatelli. Prego Professore. Grazie Dottor Borrelli e buonasera a tutti. Parto da qualche ulteriore riflessione sui dati epidemiologici che vi ha raccontato per la giornata di oggi il Dottor Borrelli per sottolinearvi che degli ultimi cinque giorni ben quattro si sono conclusi con un numero negativo di pazienti ricoverati rispetto al precedente, ivi compreso evidentemente quello odierno. E per quel che riguarda il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive siamo a cinque giorni su cinque con un calo rispetto al giorno precedente, che evidentemente documenta una volta di più quanto è stato appena rimarcato dal Dottor Borrelli. Cioè che c'è una riduzione della pressione sanitaria e tutto questo evidentemente va anche visto in una prospettiva che quando si parla di fase 2 forse non sempre viene adeguatamente sottolineata. Cioè ridurre questa pressione di carico assistenziale evidentemente sarà utile anche e soprattutto nelle regioni a maggior impatto epidemico nell'ottimizzare la gestione dei malati affetti da patologie diverse da Covid-19 che evidentemente non è che sono venuti a scomparire. C'è poi un'altra rilevazione che secondo me merita una sottolineatura e cioè a dire che oggi pur nel numero ancora importante di decessi che vengono a essere registrati ci sono 10 regioni principalmente localizzate al centro-sud e una provincia autonoma, quella di Bolzano, in cui questo numero è inferiore alle 10 unità. E anche questo, se vi ricordate, io ho già speso più di una volta parole per rimarcare che è un successo importante largamente da attribuirsi all'efficienza e alla performance delle misure di restrizione oltre che chiaramente alle capacità di tutto il sistema sanitario nazionale di aver fatto fronte a una situazione emergenziale come questa. Vi è poi da parte mia l'opportunità di sottolineare che oggi si è andati ulteriormente avanti nella costruzione della grande progettualità dello studio di sieroprevalenza perché con altri colleghi si è avuta un'assai proficua teleconferenza con i direttori generali o i loro delegati delle regioni italiane o delle province autonome esattamente per condividere il razionale quello che sarà una sorta di modus operandi per cercare poi di attivare questo studio di sieroprevalenza di cui avete tanto sentito parlare e su cui vi è largo consenso anche oggi e mi ripeto documentato durante questa teleconferenza con le regioni. e di questo evidentemente siamo tutti particolarmente grati perché è un obiettivo importante da andare a perseguire assieme ricordando che studi di questo tipo sono appannaggio di pertinenza di gestione da parte delle strutture sanitarie nazionali piuttosto che regionali. La terza riflessione che condivido con voi riguarda ancora il ruolo di AIFA e permettetemi subito di fare un augurio personale per una pronta risoluzione a quello che è l'eccellente direttore di AIFA nonché un amico personale come il dottor Nicola Magrini. AIFA ha valutato 70 protocolli, ne ha approvati 12 quindi ben 12 sono gli studi che sono stati di fatto approvati dalla Commissione Tecnico-Scientifica che è incessantemente al lavoro sotto il coordinamento della dottoressa Popoli e altri studi sono in attesa di una seconda valutazione dopo che sono state richieste delle implementazioni rispetto a quanto era stato fornito per arrivare poi all'approvazione. AIFA è anche largamente attivata per tutto quello che pertiene la fornitura di indicazioni ai medici attraverso schede documentali che vengono preparate allo scopo per cercare di gestire eventuali problematiche che dovessero configurarsi in ambito di shortage farmacologico cioè a dire di venire meno di determinati farmaci e anche in questo senso l'azione assolutamente tempestiva e attenta e non ultimo mi preme sottolineare il ruolo della farmacovigilanza proprio perché stiamo di fatto gestendo un periodo in cui si provano terapie ovviamente con una metodologia straordinariamente rigorosa ma che devono essere assai attentamente monitorate proprio per quel che riguarda la farmacovigilanza rispetto a possibili effetti collaterali in una situazione così particolare, in una malattia la cui patogenesi, cioè i meccanismi che sottendono soprattutto ai quadri di insufficienza respiratoria è ancora da definire compiutamente. E infine, avendo letto su qualche sito web che vengono segnalate delle, diciamo così, violazioni e mancati rispetti di quelle che sono le indicazioni vorrei fare due commenti proprio perché ormai ci avviciniamo anche al giorno della Pasqua e della Pasquetta 1 ma l'avete già sentito fare cioè dire che ognuno di noi deve rigorosamente adeguarsi e rispettare quelle che sono le indicazioni proprio nella prospettiva di una responsabilità individuale ma permettetemi anche di ricordare un paio di categorie professionali che qualche volta ci dimentichiamo un po' tutti di citare per il loro ruolo importante. uno sono le polizie locali svolgono un ruolo assolutamente importante in questo ruolo di monitoraggio e di prevenzione è un'altra categoria importante il cui lavoro è assolutamente utile per tutti coloro soprattutto i più fragili, i più indifesi possono essere quindi esposti a quello che ha significato un'infezione pandemica come questa cioè il ruolo degli operatori sociosanitari loro si occupano di categorie particolari di persone che risiedono nel nostro Paese quindi credo che il Paese stesso così come deve profonda gratitudine al personale sanitario alle forze dell'ordine alle polizie locali lo deve anche gli operatori sociosanitari. Grazie. Grazie. Diamo spazio alle domande. Jacopo Matano, Tg3. Per il Professore Locatelli guardando alla fase 2 secondo voi quali considerate voi diciamo le regioni meno a rischio quelle che hanno il maggior numero di contagi o quelle che hanno il minor numero di contagi questo penso su questo lei ci possa rispondere a prescindere poi dall'esito dell'esame sierologico diciamo di massa di screening di sondaggio scusi sierologico e se posso anche sulle professioni cioè un esempio di quelle che sono le professioni meno a rischio e quelle più a rischio. grazie. Grazie perché ha toccato due punti assolutamente importanti parto se non le dispiace dalla seconda delle domande perché evidentemente fa riferimento a quelli che potremmo definire i profili lavorativi quindi sostanzialmente a quello a quei tre grandi capisaldi che assai puntualmente ha definito anche Sergio Iavicoli che avete visto qui egregiamente impegnato più di una volta cioè l'aggregazione l'esposizione e la situazione ambientale allora proviamo a fare un paio di riflessioni diciamo così ai due estremi opposti gli assistenti di poltrona negli studi dentistici rappresentano un modello di categoria professionale fortemente esposta a un rischio di tipo professionale chi lavora invece per la silvicoltura detta ancora più precisamente per la cura dei boschi per mantenerli in ordine per evitare che poi magari quest'estate ci siano anche dei fenomeni di incendio in strutture boschive che in qualche misura possono venire a essere trascurate che rappresentano di converso una categoria professionale dove il rischio di contagio è marcatamente più basso e tutte queste riflessioni sono all'ordine del giorno di ogni valutazione da parte del comitato tecnico scientifico proprio perché sentiamo in maniera chiara importante il bisogno di poter fornire delle indicazioni utili al decisore politico per intraprendere poi le scelte del caso per quello che lei ha di nuovo chiamato la fase 2 sulla prima categoria di pazienti di soggetti chiedo scusa potrei anche citare faccio una menzione vedendo tante persone di sesso femminile in aula i parrucchieri altra categoria professionale che ha un rischio lavorativo significativamente più alto rispetto alla categoria per esempio di chi si occupa della cura dei boschi vengo alla prima delle sue due domande cioè dire la gestione delle diverse regioni diciamo che ci sono un paio di argomenti che vanno in direzione opposta in chiave interpretativa perché è ovvio che in una regione che ha un'alta incidenza di diffusione epidemica il rischio di contagio è evidentemente più elevato di converso però in una regione dove il tasso di incidenza epidemica è più basso ragionevolmente ma è anche una delle ragioni per cui andremo a condurre questi studi di sieroprevalenza è ipotizzabile che il numero dei soggetti che non hanno avuto una produzione anticorpale come indicatore di esposizione al virus sia decisamente più alto e quindi ci sia di fatto una maggior proporzione di soggetti che possono essere più suscettibili a un'acquisizione di un'infezione virale. Di nuovo e con questo do una chiave interpretativa largamente personale credo che le politiche che verranno scelte dal decisore e quindi da tutti coloro a cui pertiene questa scelta dovranno forse avere più un carattere di ordine nazionale piuttosto che regionale semmai valorizzando quello che vi dicevo prima rispetto ai profili di rischio dei lavoratori. Quindi prima le protezioni però a livello nazionale e a livello nazionale? Tendenzialmente direi di sì. Buonasera, Matteo Guidelli dell'ANSA. Professore, torno un attimo sulla questione dei test sierologici. Lei ci ha detto oggi si sono fatti passi ulteriori in avanti ma il 3 aprile cito le sue stesse parole ci aveva detto che entro pochi giorni ci sarà la validazione dei test da utilizzare su larga scala su un campione della popolazione e che tale validazione avverrà sulla base di quattro criteri avrà una valenza nazionale. Volevo capire un attimo quindi se questo campione di popolazione è stato individuato suppongo con l'Istat si parlava nei giorni scorsi di 200 mila persone e volevo capire se ci stavano se erano già pronti questi criteri insomma quando si parte. Allora grazie anche lei per la domanda che in realtà presuppone due risposte una è quella del dimensionamento campionario il dimensionamento campionario verrà di fatto essere costruito in maniera tale da tenere in considerazione il genere della popolazione che verrà essere oggetto dell'indagine sierologica di sei fasce di età perché sei saranno appunto le fasce di età che abbiamo deciso di tenere in considerazione grazie alle indicazioni di Istat importante e devo dire che ci sarà un ulteriore passaggio di interazione anche con i colleghi dell'Associazione Italiana di Epidemiologia con cui anche oggi in teleconferenza c'è stato un confronto in questo ambito dei profili lavorativi e in particolare verranno definiti un numero limitato di profili lavorativi e delle differenze regionali per quel che riguarda invece la domanda relativa ai test sierologici ricordo quello che ho già detto in precedenza cioè a dire che verrà scelto un test sierologico connotato da elevata sensibilità elevata specificità applicabilità larga su tutto il territorio nazionale perché lo studio a cui abbiamo fatto prima riferimento sarà uno studio condotto su tutto il territorio e nazionale con un larghissimo coinvolgimento delle regioni sul cui contributo molto contiamo e oggi abbiamo avuto l'evidenza di questa larga propensione al dialogo e a costruire una progettualità condivisa e sulla rapidità di realizzazione dell'esame in maniera in maniera tale da avere sostanzialmente una possibilità di processare un numero di campioni nell'unità di tempo che ci consenta di condurre a termine questa valutazione di tipo epidemiologico quindi la valutazione relativa al tasso di sieroprevalenza in tempi brevi sulla base delle caratteristiche che ho appena citato verrà fatta la selezione dei test che sono andati a essere oggetto di valutazione in termini di validazione proprio per fare la scelta più accurata oculata e soprattutto per avere un approccio omogeneo su tutto il territorio del nostro Paese. Buonasera, Giorgia Sodaro ADN Cronos. Cambio tema e faccio un po' una fuga in avanti. In questi giorni si è molto parlato di diverse ipotesi per la possibile riapertura delle scuole. Quindi si è parlato di proseguire didattica a distanza ma anche di distanziamento sociale nelle scuole. Cosa che credo possiamo escludere sia possibile realizzare negli asili e nelle scuole materne. Mi chiedevo se possiamo già escludere da ora la possibilità di riaprire queste strutture a settembre oppure se c'è qualcosa che ci sfugge che magari si può fare e in particolare per la didattica a distanza tra virgolette perché parliamo di bambini molto piccoli se possiamo dire che non so quanto può essere produttivo più che produttivo giusto per bambini così piccoli utilizzare strumenti come tablet cellulari che a quell'età sono normalmente sconsigliati. grazie per la domanda anche a lei faccio due riflessioni la prima che personalmente ritengo un po' prematuro allo stato attuale in qualche modo anche solo ipotizzare scelte per uno scenario applicativo di settembre direi che forse è il caso di limitare un pochino l'arco di prospettiva temporale come auspicio le dico che spero ardentemente che per settembre questo tipo di problema non debba venire a porsi anche perché stiamo facendo esattamente di tutto per ridurre il più possibile la diffusione epidemica se preferita l'indice di contagiosità l'R con 0 l'RT come meglio lo volete chiamare e ovviamente queste valutazioni andranno poi aggiornate in itinere. La seconda riflessione che faccio è che la scelta relativa a quanto è realistico interrompere qui l'anno scolastico inteso come didattica frontale piuttosto che no evidentemente spettano al Ministro dell'Istruzione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Certo non voglio fare la figura di colui che non prova comunque dare una risposta compiuta alla sua riflessione negli scenari che abbiamo considerato abbiamo anche valutato quello che potrebbe essere l'impatto della riapertura delle scuole e quindi poi una volta fornite come CTS al decisore politico le indicazioni del caso sono certo che le scelte migliori nell'interesse del Paese verranno intraprese. bene buonasera sabene tg2 volevo fare una domanda a lei professore in realtà duplice perché credo cominci a preoccupare in maniera abbastanza importante il numero dei decessi tra i medici e tra l'altro anche tra i tra gli infermieri siamo arrivati credo a 103 tra i medici e a una trentina se non ricordo male tra i tra gli infermieri a questo punto secondo lei una sua impressione anche da da professionista del settore si è arrivati a un punto a un numero inimmaginabile per quanto riguarda questa emergenza per i decessi rispetto al personale ospedaliero in generale si è sbagliato su qualcosa non sono stati dotati nella maniera corretta di protezione a livello personale perché del resto loro sono la frontiera da cui ci si aspetta in realtà un intervento e non un decesso se vogliamo dirlo in maniera brutale ma sono quelle persone che devono essere tutelate per prime la seconda cosa che volevo chiederle lei parlava di questo trend positivo nella sua negatività degli ultimi quattro giorni se io oggi le chiedessi senza guardare quelli che sono i tavoli tecnici e le consultazioni politiche eccetera lei proseguirebbe con le misure che ci sono attualmente in vigore le cambierebbe oppure allenterebbe un po' la la cinghia se vogliamo dirla in maniera brutale anche qui grazie allora parto dalla prima domanda per dire che lei prima ha parlato di un numero inimmaginabile io mi permetto di rifinire un pochino la mia personale posizione nel senso che al meglio ottimalmente nessun operatore sanitario avrebbe dovuto perdere la vita per assistere i malati di covid-19 la dico proprio perché faccio parte della categoria sapete che svolgo non solo attività scientifica didattica ma vi è ben noto anche attività cliniche probabilmente la parte che ancora di più mi piace del mio lavoro e per cui o meglio rispetto alla quale non rinunzierei mai è chiaro che chi assiste malati come questi deve essere sempre messo nelle condizioni sia in termini di dotazione di dispositivi di protezione individuale sia in termini anche di percorsi di formazione perché anche qui va detto in maniera molto chiara che evidentemente uno scenario come quello che stiamo vivendo prima non l'avevamo mai vissute quindi c'è stato anche una sorta di learning process di fatto entrambi questi cardini questi piloni fondanti devono essere ottimizzati per tutelare il personale sanitario e sostanzialmente è la ragione per cui per esempio si fa una differenziazione nei dispositivi di protezione individuale per esempio riservando i famosi dispositivi FFP3 che sono quelli a maggior garanzia di protezione alle categorie più esposte quindi ai colleghi che si occupano di intubazione di ventilazione meccanica proprio perché loro devono avere prioritariamente questo tipo di protezione per essere al massimo tutelati mentre le mascherine chirurgiche vanno adeguatamente fornite a coloro che hanno una gestione chiamiamola meno intensivistica e meno invasiva dei malati di Covid-19 se qualcosa può essere stato gestito in maniera subottimale se qualcosa perfettibile lo andremo sicuramente a vedere con la dovuta attenzione e soprattutto con la puntigliosità che merita il sacrificio di tutte queste vite per far sì che non si ripeta più ma quello che è importante dire a tutto il paese a tutti gli infermieri a tutti i miei colleghi medici che c'è un'attenzione faccio usare questo aggettivo suprema in questo momento a cercare di tutelarli proprio perché evidentemente hanno un elevato rischio professionale hanno il merito incommiabile intrinseco alla loro stessa professione alla nostra stessa professione di aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno i ricompresi malati che possono rappresentare anche un pericolo per la nostra salute quindi va sempre fatto il massimo in termini di dotazione dei dispositivi di protezione e di formazione per evitare fenomeni come questi no diceva scusi allora le misure un po' l'ho già detto prima ma ci ritorno io credo che sia assolutamente importante che in questo momento ognuno faccia quello che è chiamato a fare i medici gli scienziati i membri in generale del comitato tecnico scientifico forniscono orientamenti il decisore politico ha di fatto la necessità l'obbligo se vogliamo l'onere delle scelte politiche e devo dire l'ho sottolineato tante volte ma lo ripeto con piacere ancora una volta questo rapporto dialogico con la chiara distinzione dei ruoli l'ho sempre trovato molto netto ma di nuovo e per arrivare al punto della sua domanda dico in maniera chiara che tutto quello che riguarderà politiche di riaccensione delle attività produttive non essenziali le essenziali come ben sapete sono sempre state mantenute attive altrimenti non avremmo avuto cibo non avremmo avuto farmaci a disposizione tanto per citarne due andrà fatto con molta cautela proprio per evitare che andiamo incontro a una seconda ondata esattamente la posizione poi peraltro che è stata ripetutamente espressa dal Ministro della Salute col quale il CTS è in dialogo costante e che personalmente supporto in maniera completa quindi come ho detto tante volte grande attenzione alla necessità di mantenere l'economia del Paese sostenibile ma altrettanta e semmai prioritaria alla tutela della salute dei cittadini Buonasera Angela Tucci alle fonti tv nonostante le misure restrittive di questo periodo ogni giorno ci sono migliaia di nuovi contagiati è chiaro che i contagi avvengono negli ospedali studi medici in famiglia dove spesso i covid positivi fanno la quarantena in supermercati dove ci sono delle file interminabili allora io mi chiedevo ma non si riesce in qualche modo ad intensificare la spesa online o perché spesso i siti di spesa online sono bloccati o lentissimi magari il Ministro per l'innovazione tecnologica insieme alla protezione civile potrebbe sensibilizzare la grande distribuzione per cercare di incentivare e quindi migliorare questo problema come sa i siti per la spesa online erano i siti che stavano crescendo prima della diffusione del coronavirus è un mercato in espansione organizzato dai privati da chi fa la vendita al dettaglio quello che noi abbiamo fatto come sistema di protezione civile preoccuparci di supportare chi non può andare a ritirare la spesa e quindi con il sistema di protezione civile con i nostri volontari abbiamo messo in piedi una filiera per consentire di far giungere la spesa a chi ha delle difficoltà mi risulta anche che sul territorio questi siti e anche catene di supermercati perché non necessariamente deve essere un sito di vendita online si sono attrezzate hanno fatto anche delle convenzioni con volontari anche volontari della protezione civile per la consegna dei cibi quindi si tratta di una pratica da incentivare di una pratica che viene gestita a livello privatistico sulla quale noi possiamo dare tutto il supporto che ci viene richiesto ma torno a ripetere e qui voglio ancora una volta ringraziare i nostri volontari del Servizio Nazionale della Protezione Civile sono impegnati in tutta una serie di attività quindi anche su queste noi potremo dare un supporto partendo dall'organizzazione però del privato che gestisce il servizio Per l'orario dei supermercati ci sarà Beh, per l'orario dei supermercati come avete visto sono regolamentati e saranno fatte le valutazioni del caso anche con riferimento a quello che sarà il prossimo futuro Ultima domanda Buonasera Lorenzo De Cicco del Messaggero al professor Locatelli volevo chiedere sulle case di riposo che come ci ha dimostrato il disastro del tribunso nella regione Lombardia sono tra le strutture più colpite dal Covid-19 i cosiddetti cluster quindi che interventi sono allo studio per tutelare gli anziani anche nella fase 2 e al Dottor Borrelli vorrei chiedere invece dei controlli nel weekend è di poco fa la notizia di una nuova circolare del Viminale che ha previsto anche controlli sulle seconde case e sulle consolari che tipo di verifica saranno disposte ora che si avvicina la Pasqua come diceva prima e qual è il rischio se ci fosse un allentamento della disciplina nel rispetto dei divieti dell'emergenza grazie parto da questo potenziamento dei controlli io voglio ringraziare il Ministro dell'Interno e il Ministero dell'Interno e tutti coloro i quali anche a livello territoriale quindi le polizie municipali tutti coloro i quali fanno i controlli lo abbiamo sempre detto non bisogna allentare la guardia non bisogna pensare che noi abbiamo vinto la nostra battaglia contro il virus dobbiamo continuare ad adottare comportamenti responsabili dobbiamo limitare gli spostamenti e questo non può che essere garantito anche con una adeguata attività dei controlli quindi io sono felice che siano stati potenziati i controlli ed era una cosa che veniva auspicato anche dalle stesse regioni molte regioni, province autonome hanno proprio evidenziato il tema dei proprietari delle seconde case la norma non consente spostamenti per questi fini quindi invitiamo tutti a rispettare le norme Grazie per la domanda sulle RSA perché sapete che è tema a cui sono particolarmente sensibile che mi è particolarmente caro proprio per il rispetto assoluto a quella che è il patrimonio del nostro paese cioè la nostra memoria storica agli anziani l'RSA si sono dimostrati indipendentemente da quello che è successo poi al Pio Albergo Tribulzio di Milano uno dei punti in cui maggiormente si sono osservati decessi perché lì risiedono soggetti anziani spesso e volentieri non autosufficienti con comorbidità cioè con patologia concomitanti che come ben sappiamo rappresenta l'altro grande fattore di rischio oltre all'età ricordiamo ancora una volta che largamente più dell'80% delle persone che purtroppo hanno perso la vita nel nostro paese erano dei soggetti oltre i 70 anni di età si è già messo in atto molto per cercare di limitare al massimo sia la diffusione del contagio in quella che è una comunità chiusa come a tutti gli effetti è un'RSA sia per di conseguenza prevenire il numero delle morti quindi provo a rammentarne qualcuna che evidentemente dovrà trovare continuità e non dovrà minimamente essere disattesa neanche nella fase 2 fornire adeguatamente i dispositivi di protezione individuale a chi ci lavora cercare di cogliere tempestivamente possibili segni di potenziale infettività o contagiosità di chi ci lavora ibi compresi anche le persone che si occupano degli aspetti chiamiamoli sussidiari le mense, la fornitura piuttosto che i cambi di biancheria che avvengono in maniera quotidiana ahimè questo lo devo citare con rammarico ma così è andremo avanti a limitare gli accessi proprio perché i visitatori esterni rischiano poi di poter contagiare soggetti fragili con una diffusione all'interno delle RSA o case di riposo come le volete chiamare è evidente che tutto questo non potrà minimamente essere cambiato non ci potrà essere nessuna eccezione anzi semmai bisognerà pagare ancora più attenzione grazie grazie grazie